Il campo Rom di Via del Riposo è vuoto. Tutti i nomadi che vivevano nella baraccopoli del quartiere napoletano di Poggio Reale, abbandonata di corsa dopo le minacce dei residenti, scatenate da una presunta molestia sessuale ai danni di una minorenne, hanno deciso di spostarsi negli altri insediamenti cittadini. In particolare nel quartiere Gianturco, dove già da tempo era presente un altro insediamento Rom. In Via del Riposo, intanto, le ruspe mandate dal comune hanno abbattuto una baracca, poi si sono dovute fermare. Si è in attesa ancora dei veterinari per liberare prima gli animali presenti nel campo Rom. Il vice sindaco, Tommaso Sodano, ha disposto lo smantellamento. In campo, Polizia Municipale, gli uomini dell'Asia, dell'Asla e dei servizi tecnici. Dopo un'ispezione per la verifica dello stato del luogo, ben visibile dalle immagini, sarà necessario ora identificare e separare i materiali abbandonati e di rifiuti, che non sono pochi.